In seguito dallo scorso mese di gennaio vestirà la maglia del Napoli, forse già nella prima di campionato contro la Fiorentina Irving Lozano. L'ormai ex giocatore del PSV Andoven è sbarcato questa mattina a Roma per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stewart e poi firmare il nuovo contratto nella sede della Filmauro che lo legherà agli Azzurri per i prossimi 5 anni. Di lui dicono sia un Lavezzi con un maggiore senso del gol e i tifosi, non solo quelli che lo hanno atteso all'aeroporto di Ciampino, già sognano. 24 anni, classe 95, cresciuto nel Pachuca, club messicano, Lozano ha segnato 45 reti in 83 partite negli ultimi due anni nel campionato olandese. Il messicano percepirà 4 milioni netti a stagione con l'inserimento nel contratto di una clausola recissoria di 130 milioni e con Manolas di Lorenzo ed Elmas rappresenta il quarto acquisto del mercato estivo del Napoli. L'ambiente spera sempre nell'arrivo di Ames Rodriguez e di Cardi, ciliegine sulla torta che al netto dei soliti abbagli da calciomercato Aurelio De Laurenti si vorrebbe regalare ai tifosi napoletani. A pochi giorni dal calcio d'inizio, insomma, qualcosa ancora può succedere sia sul fronte degli arrivi che delle partenze. Fernando Agliorente è l'altro nome che si fa per l'attacco qualora ai Cardi restasse solo una suggestione e con le valigie in mano ci sono ancora Unas e il terzino Usai.